Italia da gustare, un viaggio tra le eccellenze italiane a cura del direttore Dario Bordè. All'artigianato in fiera con il procuratore di stile legno Michele Farella. Da Altamura, da quanti anni sul mercato? Sul mercato sono all'incirca da un decennio sono. Anche qualcosa in più. Io vengo da una dinastia di Falegname, mio padre era Falegname, di cui negli anni 50 e 60 produceva questi letti salvaspazio, vedo e non vedo, come dicevo il direttore. Allora, mi è venuta questa idea qua all'incirca di 10 anni fa, mi chiamò un amico, mi chiamò e dice guarda Michele ho problemi di trovare un letto però non entra nel mio monolocale che ho. Io in quell'istante mi venne un flash, ricordavo quando ero piccolo mio padre mi insegnò l'arte del legno, del Falegname, mi insegnò. Si è accese una lampadina come si vuol dire e da allora ho iniziato a fare letti e mobili salvaspazio. Effettivamente, Michele lo devo dire, uno vede una bellissima parete, una libreria, un tavolo da pranzo a un certo punto, track, insomma, angolo notte. Ecco, ma soprattutto quello che ho notato, gli ingranaggi, che sono molto particolari, non rumorosi, cioè poi la qualità del materiale. Noi usiamo esclusivamente qualità italiana, i miei fornitori, sia della meccanica, per quanto riguarda anche il legno, sono solo italiani, sono. Diamo proprio il Made in Italy, valorizziamo il discorso di Made in Italy. Ecco, diciamo, facciamo una specie di cammeo, di promozione. Perché a comprare Stile Legno, che tra l'altro io mi ero innamorato di questo pezzo per il mio maso in montagna, perché ho problemi di spazio. Quindi tiro un butoon, come si dice da queste parti, e mi viene fuori il letto matrimoniale per gli ospiti. Ecco, Stile Legno tra l'altro consegna in tutta Italia, il prezzo è quello che abbiamo visto qua in fiera. Ecco, facciamo un po' di promozione. Perché avvicinarsi al mondo Stile Legno? Stile Legno è come fabbrica dove produciamo tutto noi internamente. Il nostro marchio si chiama Fastbed, noi ci presentiamo sul mercato come Fastbed. Praticamente facciamo un po', come diceva lei, il discorso di mobile letti salva spazio. In modo tale che uno vede o non vede, cerchiamo di risolvere tutti i problemi in una casa dove manca lo spazio. Noi iniziamo dai letti singoli ai matrimoniali. Facciamo tutto quello che desidera il nostro cliente e lo soddisfiamo a 360 gradi. Benissimo, siamo sotto Natale, vedo che i prezzi sono ultra abordabili, tra virgolette. Quindi ovviamente Fastbed e Stile Legno su internet troviamo tutte le coordinate per capire quello che ci siamo raccontati questo pomeriggio. A proposito, come sta andando questa fiera? Abbastanza soddisfacente. Tenendo conto oggi è il secondo giorno, c'è abbastanza affluenza. Abbiamo avuto tantissimi contatti di cui un nostro commerciale già da ieri pomeriggio sta girando in largo a Milano per visionare perché, anzi, anzitutto mandiamo un nostro commerciale. Alcune volte vado anch'io in primis nelle case dei clienti dove cerco di prendere le misure e di consigliare al cliente finale dove possiamo fare il letto di quel letto salvaspazio oppure il mobile salvaspazio. Grazie Michele, buon relax di Natale e di buone feste a tutti. Grazie ancora. Grazie anche a voi. Da Milano con Michele Farella è tutto. Alla prossima rubrica.